salve e bentrovati per questo nuovo episodio dedicato alla serie sui finali nella scorsa puntata avevamo introdotto il concetto di opposizione avevamo parlato delle case chiave e avevamo detto che in una posizione come questa l'unico modo per poter promuovere il pedone da parte del bianco è quello di andare a controllare con il re una delle tre case chiave questa è una posizione molto particolare e dobbiamo stare molto attenti in questo caso perché come prima idea di solito viene in mente di giocare re d2 re d3 re d4 per poi andare a controllare una delle due case chiave in realtà vediamo che re d2 non è una buona mossa perché il nero può giocare re 7 dopo re d3 re d7 e quindi il nero gioca una mossa d'attesa perché perché il bianco cercherà di giocare una di queste due mosse a cui il nero risponderà con una di queste quindi il nero qui ottiene l'opposizione dopo per esempio re d4 il nero gioca re d6 re c4 re c6 e come vedete è impossibile per il bianco ottenere il controllo di una casa chiave infatti il nero può proseguire con l'opposizione l'unica cosa che il bianco può fare in questa posizione è quella di cercare di spingere il pedone in c4 però in questo caso abbiamo visto nella scorsa puntata come il nero riesce a difendersi ok quindi partendo dalla posizione iniziale in questo caso il bianco riesce a vincere se prova a giocare re c2 re b3 vediamo come re c2 re 7 re b3 re d6 a questo punto re b4 e dopo re c6 il bianco riesce a ottenere l'opposizione e in questo caso riesce a raggirare il re dell'avversario ottenendo il controllo di una casa chiave ok a questo punto la partita è vinta e come abbiamo visto nello scorso video il bianco qui acquista sempre più spazio per raggirare il re del nero possiamo in questo caso tranquillamente spingere il pedone dato che ci troviamo già in una casa chiave e quindi ora è tutto più semplice vi ricordo che una volta ottenuta la sesta traversa la partita è sempre vinta anche se non abbiamo l'opposizione vinta quindi per esempio il nero può giocare re b8 a cui noi possiamo giocare re d7 e ormai andiamo a regina tranquillamente ok perfetto bene andiamo ora ad introdurre il concetto delle case critiche cosa sono le case critiche le case critiche sono quelle case in cui dobbiamo andare a mettere il nostro re per poter catturare il pedone dell'avversario ogni pedone in genere ha sei case critiche le case critiche del pedone nero sono queste quindi se riusciamo a raggiungere una di queste case con il nostro re probabilmente questo pedone cade mentre le case critiche del pedone bianco sono queste quindi il nero dovrà cercare di arrivare in una casa critica ok in questa situazione di pedone contro pedone ci sono delle regole da conoscere se il bianco in questo caso riesce ad arrivare in una casa critica la partita può essere vinta per il bianco può finire in parità in particolare il pedone del bianco deve trovarsi almeno sulla quinta traversa per poter vincere la partita infatti di solito se si trova nella quarta traversa la partita finisce in parità intanto vediamo come fa ora il bianco a raggiungere una casa critica vedete il bianco qui ha raggiunto una casa critica quindi questo pedone andrà a cadere dopo per esempio re d8 il bianco può giocare re c6 dopo re 7 re c7 re 8 e qui vediamo che ora il nero non può fare più niente per difendere il pedone perché in questo caso c'è il controllo della casa f6 da parte del pedone del bianco quindi il nero deve per forza allontanarsi dal pedone e dopo che il nero si è allontanato mangiamo il pedone e dopo re 8 anche se il nero in questo caso all'opposizione abbiamo detto che abbiamo il re davanti al pedone in sesta traversa questa posizione è vinta quindi questa posizione è vinta per il bianco e il bianco riesce ad andare a regina vediamo invece un altro esempio per quanto riguarda le case critiche in questo caso il pedone si trova sulla quarta traversa quindi ci sono buone possibilità per il nero di riuscire a battare questa partita vediamo come ovviamente il bianco cercherà di ottenere il controllo di una casa critica quindi è indifferente può venire sia qui sia qui questo pedone cade comunque per esempio per farvi vedere anche re a5 basta per ottenere questo pedone quindi dopo per esempio re c6 abbiamo re a6 re d6 re b6 e dopo per esempio re c6 e quindi il nero deve per forza allontanarsi dal pedone il bianco riesce a guadagnare il pedone il problema è che qui il nero all'opposizione e il bianco non sta controllando la sesta traversa quindi di conseguenza questa partita finisce in parità basta che il nero adotti le misure di cui abbiamo parlato l'altra volta nello scorso episodio quindi sicuramente poi ci sarà lo stallo finale ok passiamo a un altro esempio anche qui parliamo di case critiche e in questo caso come vedete sia il nero che il bianco minacciano di entrare nelle case critiche dei rispettivi pedoni ok però qui la mossa sta al bianco ovviamente anche qui dobbiamo notare che il pedone del bianco si trova in quarta traversa e quindi molto probabilmente il bianco non riuscirà a vincere questa partita deve comunque fare molta attenzione entrambi i giocatori devono fare molta attenzione infatti qui di solito si è portati a giocare re 5 però con re 5 il bianco perde immediatamente la partita infatti dopo re 5 il nero può giocare re g4 e ora il bianco ha molte difficoltà a difendere il proprio pedone dato che questa casa qui è controllata dal pedone dell'avversario quindi il re dovrà per forza allontanarsi e dopo re mangia f4 addirittura il nero va a vincere la partita quindi tornando alla posizione iniziale il bianco deve stare molto attento e qui la mossa giusta è quella di giocare re d5 dopo re d5 il nero riesce facilmente a pattare giocando re g6 quindi dando il pedone dando via il pedone dato che poi ha l'opposizione all'opposizione il re del bianco non si trova in sesta traversa e quindi qui la partita finisce in parità poiché non riusciamo a ottenere il controllo di una casa chiave in questo caso passiamo al prossimo esempio anche qui come vedete ora il pedone si trova sulla quinta traversa quindi ci sono delle buone possibilità per il bianco di poter vincere questa partita dobbiamo fare attenzione perché anche qui re 6 il nero addirittura va a vincere la partita giocando re g5 dopo per esempio re d5 re mangia f5 questo pedone poi andrà a promozione quindi tornando alla posizione iniziale qui la mossa vincente per il bianco è quella di giocare re d6 dopo re d6 infatti il nero ha almeno due possibilità una è quella di cercare di giocare re h5 ma dopo re 7 re g5 re e 6 come vedete il nero ora è impossibilitato a difendere il proprio pedone deve allontanarsi per esempio dopo re h6 re mangia f6 re h7 re 7 la promozione del pedone non può essere più fermata quindi tornando ancora la posizione iniziale abbiamo visto re d6 e vediamo se il nero cerca di giocare re h7 per cercare di difendere di nuovo qui sicuramente il nero perderà il pedone avrà l'opposizione questo è vero però abbiamo il nostro re che si trova in sesta traversa quindi se il re si trova sulla sesta traversa la posizione è vinta perché avevamo detto che se il pedone ha oltrapassato la quarta traversa le case chiave diventano 6 e sono queste ok perfetto quindi qui la partita è vinta per il bianco tranquillamente vediamo un ultimo esempio oggi per finire qui bisogna stare molto attenti in questa posizione il bianco ha un pedone in più dobbiamo capire come fa il bianco a poter vincere questa partita ora sicuramente ora che abbiamo parlato di case critiche siamo capaci di individuare subito le case critiche del pedone in h e quindi dobbiamo cercare di portare il nostro re in una di queste case non è così semplice innanzitutto dobbiamo subito eliminare la spinta di pedone perché dopo che il nero mangia e mangia basta che il nero tenga il re qui all'angolo e la partita finirà in parità quindi tornando alla posizione iniziale cosa può fare il bianco qui anche qui di nuovo bisogna stare molto attenti perché re f5 non va assolutamente bene come mossa perché il nero può rispondere con re f7 all'opposizione e il bianco non riuscirà mai a controllare una casa critica per esempio dopo re 5 il nero può giocare re 7 e dopo re d5 re d7 come vedete è impossibile per il bianco ottenere controllo di una casa critica perché il nero ha l'opposizione in questo caso e quindi non possiamo andare a catturare il pedone in h6 l'unica cosa che possiamo fare è spingere però a questo punto la partita finisce in parità torniamo un'altra volta alla posizione iniziale in questo caso l'unico modo per poter vincere da parte del bianco è quello di giocare re 5 infatti con re 5 ci assicuriamo una di queste due case se il nero per esempio qui dovesse giocare re f7 abbiamo l'opposizione e dopo re g7 il bianco riesce a entrare in una casa critica e quindi questo pedone in h6 cade per esempio molto semplice ora andare a catturare il pedone e ora qui possiamo tranquillamente promuovere almeno uno dei nostri due pedoni quindi andiamo a regina e riusciamo a vincere tranquillamente questa partita quindi ricapitolando oggi abbiamo aggiunto il concetto di case critiche un concetto molto importante che ci permette di capire come dobbiamo agire contro i pedoni dell'avversario anche per oggi è tutto spero che questo video sia stato di vostro interesse ciao a tutti a presto grazie a tutti